Ciao ragazzi, sono DFDL e questo è un video di update per aggiornarvi sul mio setup, diciamo, per quanto riguarda l'audio della mia voce. Perché? Perché il mio vecchio microfono, quello che usavo fino allo scorso video che avete sentito e che sentirete ancora per qualche video in realtà, perché ovviamente non riregistrerò i video, non mi soddisfava più. Molto semplicemente faceva troppo eco, a mio parere, e aveva un rumore bianco di sottofondo che puntualmente dovevo tirare via nell'editing e questa cosa mi prendeva un sacco di tempo. E quindi ho preso un nuovo microfono, che è quello che state sentendo in questo momento, che è un... aspettate che non mi ricordo come si chiama... Sudotac ST900, un microfono che è arrivato dotato di praticamente tutto, ha il braccio per attaccarlo alla scrivania, dotato di molle, il windshield, che è la spugnetta che in questo momento toccherò, questa, esatto, e ha il pop filter anche, ed è un microfono a condensatore di forma cardioide, il che vuol dire che prende l'audio solo da davanti, non lo prende bene dai lati e per nulla da dietro. Vi faccio sentire, di fatti, se mi sposto su un lato, ecco, sentite che l'audio un po' cambia, ecco, appunto. E questo video sarà registrato senza musiche di sottofondo, perché è giusto un video per farvi sentire come funziona questo nuovo microfono e per avere un po' un vostro parere sulla sua qualità. A me sembra molto migliorata, ho già fatto delle prove e sembra prendere poco i rumori di sottofondo, ecco, forse questo della mia sedia lo prende, forse prende la tastiera, se io la premo un po', adesso sta facendo cose strane Audacity, forse prende altri rumori, ma per adesso sembra un buon microfono, assolutamente. È un microfono USB, quindi l'ho attaccato al computer tramite USB ed è partito e funziona subito, senza problemi. E in questo momento sto usando tutto, sto usando il windshield e sto usando il pop filter. Provo un attimo a tirar via il windshield per vedere come funziona senza, ecco qua, così, è come funziona senza il windshield, non so se è diverso l'audio, non penso, non penso proprio. Adesso proviamo a tirar via il pop filter, ha anche il supporto anti-shock, io in questo momento il microfono lo sto toccando e si sta anche muovendo, ma non credo che voi sentiate il rumore del microfono che si muove. Comunque proviamo a tirar via il pop, ecco, e questo è il microfono, come si sente senza il pop. Difatti le P in questo momento, wow, wow che roba che fanno le P in questo momento, lo rimetto subito. Ecco qua, ha rimesso il pop, perfetto, e rimettiamo anche il windshield, ecco qua, mi si era abbassato leggermente il microfono. Comunque, ditemi la vostra, ditemi come vi sembra l'audio di questo microfono e scrivetemelo nei commenti. Magari non è così tanto di qualità come mi sembra, magari a voi non piace, voi preferite il vecchio microfono. Fatemelo sapere. Quindi ci vediamo al prossimo video e ciao!